Una medaglia d'argento è sempre una medaglia d'argento. È impossibile da non apprezzare. Eusebio Aliti però un pizzico di ramarico ce l'ha al termine dei campionati italiani assoluti su pista di atletica leggera che si sono conclusi domenica scorsa a Bressanone. È stato ad un passo infatti dal salire sul gradino più alto del podio nei 400 metri ostacoli. L'atleta bicegliese ha dominato la gara sin dalle battute iniziali, si è presentato al comando sul rettilineo finale, poi ha dovuto fare i conti negli ultimi 20 metri con il ritorno e il conseguente sorpasso di Alessandro Sibilio che ha vinto la medaglia d'oro con il crono di 50 secondi e 84, 22 centesimi in meno per l'esattezza di Eusebio Aliti. Il portacolori dell'esercito nella trasferta alto a Tesina ha comunque collezionato la sua quarta medaglia in carriera agli assoluti sui 400 ostacoli, migliorato il bronzo vinto lo scorso anno, sfiorato il bis del titolo ottenuto a Milano nel 2013, l'anno in cui ha partecipato in seguito con la 4x400 ai campionati mondiali di Mosca. Podio completato a Bressanone da Lorenzo Veroli piuttosto staccato però dei primi due. Molto bene, agli assoluti si è comportato anche un altro bicegliese. Ovvio il riferimento a Carmelo Musci che al primo anno da Juniores ha collezionato due ottimi piazzamenti tra i big dell'atletica leggera italiana e con gli attrezzi dei grandi. Il gigante dell'Aden Ex Priamolfetta ha ottenuto un eccellente quarto posto nel peso con la misura di 16,80 metri e si è classificato ottavo nel disco con 47,18 chiusa a Bressanone. Una stagione davvero molto positiva per il 18enne di Biceglie.